Signori quest'oggi nuovissimo video guida raccogli parti meccaniche da veicoli camion bus o trattori Il luogo migliore per completare questa lezione è ovviamente foresta frignante ragazzi che in questo momento Eccola qua io neanche l'ho sbloccata esattamente questa location qua signori Perché proprio qui ci sono a quanto pare un botto di camper Ecco qua ragazzi solo qui ci sono 5 camper e già qua ho fatto praticamente la missione Non c'è più neanche lo spot dei bot finalmente l'han tolto Comunque raga in sta stagione numero 6 hanno aggiunto il robo una roba per il crafting Di fatti avremo la possibilità di craftare tramite degli ingredienti Adesso vi faccio vedere per esempio vedete vedete guardate abbiamo preso del crafting Adesso vi faccio vedere bene in ogni caso guardate dovremo semplicemente spaccare questi camper qua E come potete vedere eccolo qua parti meccaniche componente per creazione Lo raccogliamo e vedete che siamo a 2 su 5 Distruggiamo anche questo terzo camper e raccogliamo sempre l'ingrediente E siamo a teoricamente 3 su 5 4 su 5 ora manco mi ricordo più Già ho perso il conto vediamo un po' quanto stiamo Teoricamente vedete 4 su 5 e con l'ultimo camper signori guardate un pochino Raccogliamo esattamente 5 esatto pass battaglia livello 2 signori E abbiamo completato questa mission cella ultra bislacca D'altro questo qui non so manco come funzioni sinceramente E semplicemente ragazzi ora guardate se andiamo nella creazione per esempio Posso creare tramite soltanto 4 pezzi di questa roba qua Che in questo caso ho spaccato che sarebbe la parte meccanica Praticamente come potete vedere mi crafto da solo il pompa nuovo ragazzi Ed ecco qua che ho il pompa del nonno verde Ragazzi è un qualcosa di assurdo Difatti a brevissimo vedremo anche come completare la missione Di creare un mantello del cacciatore ragazzi Perché in questo caso si crea il mantello del cacciatore Non con le parti meccaniche ma con il pollo ho visto In ogni caso ragazzi tanta tanta roba A tra pochissimo dunque con un nuovissimo video Barra live dai ragazzuoli